Ben trovati, avete mai fatto una riflessione come mai ogni qual volta che una pubblica amministrazione determina un'ordinanza o vi è per esempio una presa di posizione per la sicurezza della strada, chi ne paga le conseguenze è sempre il cittadino, al di là del suo essere civile o incivile. Voglio farvi tre esempi, il primo ZTL a Lecce, dicono no assolutamente ma stiamo scherzando 10 euro soltanto ad auto per i residenti sono semplicemente i costi per stampare e classificare, ma scusatemi voi fate le porcherie in questi anni nel senso che è stato dato un pass in ogni famiglia, giustamente residente nel centro storico, ma poi migliaia di pass sono stati dati all'esterno e oggi che fortunatamente riguardate il tutto imponete a chi ne aveva già diritto e che aveva già pagato le famose 10.000 lire del vecchio conio di dovervi dare altri soldi per poter certificare di essere ancora residenti nel centro storico. Va bene, quindi chi paga alla fine, al di là del diritto del non inquinamento del centro storico, sempre il cittadino con 10 euro e statevi bene. Altro aspetto, quello legato al malfunzionamento dei parcometri nella zona in agro di Vernole sulla litoranea di San Cataldo. Non sono funzionanti, per fortuna abbiamo chiamato in diretta il primo cittadino De Carlo che non ne sapeva nulla, quindi grande responsabilità dei responsabili, scusatemi il gioco di parole, di coloro che quindi gestiscono questo servizio, non averlo detto al sindaco di Vernole che diligentemente ha previsto subito un incontro. Io chiedo al primo cittadino di Vernole di bonificare eventuali multe fatte per grattino scaduto, per ticket scaduto nei giorni in cui si può testimoniare il cattivo funzionamento dei parcometri. Altro aspetto legato all'autovelox tra Lecce e Villa Convento con l'ambiguità dei segnali. Levate i segnali che indicano il limite massimo di 40 km orari se l'autovelox che entrerà in funzione è legato ai 50 km, altrimenti non solo è confusione ma anche pericolosità rispetto a quella strada. E poi sempre un'oscurità nel comprendere, nel sapere se è già in funzione o meno, mai una parola chiara che è stata data oggi dal comandante della Polizia Provinciale Arnò. Ma non abbiamo chiarezza ancora, però, e questo è un interrogativo che pongo, rispetto agli introiti delle multe fatte sulle strade provinciali. Milioni di euro l'anno. Per cosa sono usati oltre che per pagarne i costi del corpo della Polizia Provinciale? Come mai non vi sono piazzoli di sosta in molte strade provinciali? Come mai molte strade provinciali non hanno la giusta azione di buona conservazione? Perché succede questo? Perché noi dobbiamo pagare le multe e poi non dobbiamo ottenere i servizi e poi tanti troppi autovelox forse sono un modo non per garantire la sicurezza ma per far cassa. A domani!